L'atmosfera nel lab della fiera è ben diversa da quella di qualche mese fa. La voce registrata si sente di rado, il contatore sui monitor scatta con meno frequenza, la regione Puglia ha avviato la somministrazione delle quarte dosi o più correttamente le seconde dosi di richiamo anche dette booster. Interessati a questa fase della campagna vaccinale anti-covid sono gli over 80, gli ospiti delle strutture per anziani e le persone tra i 60 e gli 80 anni in condizioni di elevata fragilità. Un'indicazione che arriva dopo la determina AIFA che autorizza l'utilizzo per questo scopo dei vaccini Pfizer e Moderna. Chi ha scelto di non attendere di mettersi subito al sicuro già stamattina era in uno degli hub rimasti aperti dopo la riorganizzazione della rete. Qui per la quarta dose nessuna paura? Nessuna paura, no. Sono stata consigliata di farlo e quindi la stiamo facendo prima che possiamo prenderlo perché so che con facilità lo si prende. Allora, visto che non l'abbiamo ancora preso, preferiamo proteggerci. Ha un po' di timore subito? Che timore? E facciamo la testa timore. Se va prima, va prima. Se il vaccino fa male. Perché meglio è il primo? Non buco. L'abbiamo. 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 Non lo dico. Se l'abbiamo. 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 L'accesso alla vaccinazione verrà senza necessità di prenotazione secondo modalità organizzative definite da ciascuna azienda sanitaria locale per le diverse categorie di soggetti come per esempio le giornate dedicate o gli accessi differenziati nonché per le altre aziende accreditate che seguono i propri pazienti nei centri specialistici. Del resto la Puglia ha dimostrato di poter garantire già una copertura molto ampia sulla somministrazione delle terze dosi arrivata addirittura all'89% sulla popolazione over 60. Tutti i dati confermano la necessità di vaccinare con una quarta dose certamente gli ultraottantenni e i fragili ultra sessantenni cioè tutti coloro i quali nonostante abbiano già avuto le tre dosi a patto che non abbiano avuto ovviamente la malattia dopo la terza dose abbiano anche patologie, patologie croniche quali possono essere il diabete, la cirrosi, alcune cardiopatie per esempio. È bene che si vaccinino comunque con una quarta dose perché è dimostrato che mantenere alto il titolo anticorpale protegge dalle eventuali complicanze severe dell'infezione della SARS-CoV-2.